aiuto qualcuno mi aiuti cosa si dovrebbe fare quando non c'è nessuno per chilometri tutto è iniziato come un normale viaggio per mare l'aria di mare ti riempie i polmoni l'acqua è fantastica sul tuo corpo ma aspetta da dove viene quest'acqua e dov'è la barca e i passeggeri è una specie di scherzo non vedo telecamere nascoste direttore c'è nessuno è ora di uscire niente silenzio è questa la fine no non posso arrendermi nemmeno su un'isola deserta abbandonato bagnato fradicio alzati e vai e se non c'è aiuto puoi sempre esplorare il sentiero si addentra in profondità nell'isola sul lato soleggiato il che è un vantaggio è così bello qui un po minaccioso ma comunque bello se ti comporti come se stessi facendo una normale passeggiata è tutto ok se non fosse per le zanzà è passato molto tempo dall'ultima volta che gli umani sono stati chi è? beh hai un buon odore e anche un bell'aspetto penso che ti lascerò restare ci divertiremo insieme per mimetizzarsi nell'ambiente bisogna cambiarsi no mi metti in imbarazzo anche questo non va non hai proprio gusto lo stile dell'isola è così particolare questo è perfetto sarai fantastico passeggiando vestito così sull'isola lei non è super loquace ma è bellissima questo è per te delizioso devo lavorare anch'io sulle buone maniere per vivere su un'isola deserta ci vuole una certa abilità se non hai cibo è tutto finito per fortuna non è difficile basta lanciare un boomerang ora tocca a te cacciare una banana ma è più facile a dirsi che a farsi è come se tutti fossero nati con un'arma in mano beh è un boomerang dovrebbe tornare no? ed è quello che sta facendo ma senza banane c'è così tanto in una foresta fitta e selvaggia come deliziosi e salutare i snack trovali e prendili vedi quella noce? è lì a portata di mano solo che l'albero non vuole rinunciarvi come salgo senza attrezzatura? ah gente di città parlare e vestirsi sono le uniche cose che conoscete non sapete fare nulla guarda e impara una noce di cocco una vera noce di cocco reale e molto dura ok google come si sbuccia una noce di cocco? vorrei poter guardare un video come pare su youtube ma nessun video può essere paragonato a questa bellissima esperta non guardarlo mangialo wow è una ragazza da sogno si merita un vestito reale provali si chiama reggiseno un reggiseno wow è comodo è meraviglioso la vita sull'isola deserta non è poi così male quando conosci tutto ma una cosa è insopportabile vi taglia i piedi per aver camminato a piedi nudi cacciare con le ferite non è divertente ma per fortuna il cittadino conosce qualche comodità e l'ha portata con sé rilassati fidati di me il nastro non è il materiale più forte ma proteggerà i piedi per un po' wow posso mangiarlo? no non è cibo è meglio fare una passeggiata i piedi non fanno più male ora potresti anche cacciare un ghepardo le diete naturali possono avere una sorprendente quantità di variazioni stasera mangeremo pesce se riusciamo a pescarlo naturalmente questa è un'altra abilità cruciale e semplice ricorda seguilo poi attaccalo prova sembra facile ma ci sono alcuni trucchi no non ti piacerà questa è la mia gamba che c'è che non va? devo fare tutto da sola non è così complicato rintraccialo, attaccalo e tiralo fuori dobbiamo cuocerlo in fretta pesce fresco arrostito al fuoco gnammi! solo che non abbiamo ancora un fuoco dovranno faticare parecchio per accenderlo strofina più velocemente finché non escono le scintille ma quanto tempo ci vuole? le mie mani si stanno stancando a che serve quando hai i fiammiferi? sei un mago? è stregoneria! no, è solo una tecnologia un po' moderna chissà se le piacerebbe la città sapevi che se si tiene una conchiglia all'orecchio si sente il rumore dell'oceano? niente è più rilassante e un po' di tranquillità non potrebbe far male attacca le conchiglie su una bacchetta flessibile e prova le nuove cucchie fantastiche! le apprezzerà sicuramente non impazzire sono solo per ascoltare visto? esce la musica è un po' monotono ma bello il suono è così rilassante ma lei è sempre vigile è meglio che tu stia attento ahimè un cittadino non è proprio fatto per la vita selvaggia dell'isola cos'è? un motoscapo? il nuovo amico scappa all'istante sono qui! aiuto! è stata un'avventura indimenticabile ma devo andarmene comfort sto arrivando ciao ciao isola addio condizioni insalubri addio zanzare e zecche addio mia nuova amica la separazione non è facile ma sarai sempre nel mio cuore è stata un'avventura folle vero? cosa porteresti su un'isola deserta? trovi video sempre più interessanti sul nostro canale metti un like e iscriviti al canale se sei nuovo